Salve e benvenuti a un altro video della Conta dell'Omer per l'anno 2024. Io sono Francesca, questo video è parte di una playlist dove ci sono appunto tutti i giorni della Conta dell'Omer. Se non sapete cos'è la Conta dell'Omer, se volete informazioni sulla benedizione, sull'intenzione collegata all'albero della vita, eccetera, queste informazioni si trovano sul primo e su pochi seguenti video della lista. Primo video è importante se non sapete nulla da vedere. Detto ciò, proseguiamo subito con il conto di questa sera. Ieri era il diciannovesimo giorno, cioè due settimane e sei giorni nell'Omer. No, ventesimo giorno scusatemi, due settimane e sei giorni nell'Omer. E quindi adesso contiamo. Benissimo, siamo al giorno 21, cioè tre settimane nell'Omer. Questa è l'ultima cosa che ho detto. La benedizione è benedetto sei tu signore Dio re del mondo. Ho già spiegato questi termini, cosa significano in particolare. Che ci hai santificato con le tue mitzvot, cioè sia connessione che comandi, e ci hai comandato, connesso con la Conta dell'Omer. Abbiamo finito la terza settimana, cioè nell'ordine delle sefirot, che si sono rotte, che questo ho già spiegato più o meno cosa si intende, può essere inteso per rotte, e la terza sefirà, che è di Tiferet, e oggi è Malkut Shebe di Tiferet. Il regno, la presenza divina, la presenza in questo mondo del divino, che noi possiamo vedere tramite la bellezza di questo mondo, ma anche l'armonia e le coincidenze di Tiferet Kemp, può essere anche questo, che succedono nelle nostre vite, nel nostro mondo. Qualche volta siamo benedetti di vederle. E io auguro a tutti che quando le vediamo, queste coincidenze, le possiamo anche riconoscere e capirle, almeno in parte, quelle che riguardano le nostre vite, qualcuna di quelle almeno. Comunque sia un augurio di poter capire, apprezzare, vivere il gioco dell'armonia nel nostro mondo, e vedere com'è ben organizzato, anche se in piccoli sprazzi, perché è questo quello che molti di noi possono vedere. Grazie. Trovate il link alla playlist, eccetera, tutto quanto qui sotto al video. Ciao. Grazie. Grazie.